Salve, salve da Marco Calabro per conto di Amaci Casa. Ci troviamo oggi da Mobili Biaggi in provincia di Roma, esattamente a Lariano in provincia di Roma in via Napoli 119. Stiamo vedendo un materasso che, il materasso buongiorno, che è un materasso che viene realizzato con una struttura ad archi romani. Gli archi romani tutti quanti li conosciamo, eccoli qua. Ormai sono duemila anni che fanno parte dei panorami di tutta Europa e questo stesso sistema è stato applicato nel materasso. Andiamo a vedere come. Innanzitutto il rivestimento vediamo che è realizzato in silver, quindi un rivestimento antimagnetico, e in aloe vera che è un rivestimento antibatterico. Quindi caratteristica di essere antibatterico e antimagnetico. Andiamo a vedere l'interno. Vediamo la parte superiore che è una parte realizzata in memory marine, molto alta come vediamo. Il memory marine si caratterizza per un'alta traspirabilità dei materiali, quindi un memory particolarmente ventilato. Considerate che si arriva fino al 500 per cento di respirazione in più rispetto al memory normale. Andiamo nella parte sottostante per vedere gli archi romani. Eccoli qua. Vedete ci stanno due serie di archi romani. Gli archi romani, come sappiamo, hanno la caratteristica di scaricare ai lati dell'arco l'energia. Questo stesso concetto è stato applicato per il corpo umano, quindi questo materasso è un materasso estremamente comodo ed è un materasso estremamente utile perché con questo smaltimento che ha dell'energia sui lati degli archi esercita una pressione dal basso verso l'alto, quindi verso il nostro corpo, una pressione che è proporzionata al peso che noi stiamo esercitando sul materasso. Ecco, stiamo vedendo l'effetto degli archi romani. Questo rende il materasso confortevole ma un materasso di sostegno. Questo è uno dei prodotti sicuramente più interessanti del catalogo Saludormi. Stiamo parlando del materasso Buongiorno di Saludormi. Questo materasso l'abbiamo visto oggi da Mobili Biaggi in via Napoli 119 all'Ariano in provincia di Roma. Vediamo un attimino, ecco qua il materasso, il materasso come dicevamo di Saludormi, vediamo gli archi romani e vediamo come è stato applicato su questo materasso. È un po' fuori fuoco, vediamo se riusciamo a mettere, eccolo qua, ci siamo riusciti. Grazie, grazie sempre per ascoltare i video di Amaci Case e arrivederci al prossimo video.